Torre Pietra, proseguendo da Margherita di Savoia verso nord, lungo la statale delle Saline, dopo circa 11 chilometri si raggiunge Torre Pietra Eretta nel 1568, originariamente chiamata Torre della Punta della Pietra, traeva il suo nome dal fatto che di fronte esse, verso il mare, c'era il promontorio di San Nicolao de Petra, ovvero un sito costiero che vieviene secoli, per la lenta erosione marina, è divenuto isola per poi inabissarsi definitivamente. Nei mesi primaverili e autunnali, col mare calmo, è infatti possibile distinguerne i resti sui fondali, questo tratto di costa è sempre stato storicamente molto importante, prima con San Nicolao de Petra, che diede in Natalia S. Ruggero, patrono di Barletta poi, una volta cominciata l'erosione, XVI secolo, il centro medioevale, sede anche di un monastero, fu spostato verso l'interno, ma anche questo non bastò, costringendo a spostare la torre laddove oggi la vediamo, e dove certo è ancora preda dell'erosione, anche Torre Pietra, come le altre torri, aveva funzione di avvistamento e segnalazione dei pericoli provenienti dal mare, di fortificazione, ma anche doganali e di controllo delle acque del lago Salpi.